La colomba batte le uova di cioccolato e si classifica come dolce preferito delle feste, anche se in più di 4 famiglie su 10, il 41%, si preparano quest'anno in casa i dolci tipici della Pasqua, anche per effetto del caro prezzi scatenato dalla guerra in Ucraina. E quanto emerge dall'indagine col diretti sulla Pasqua degli italiani, in cui si evidenzia che la colomba è presente nel 71% delle tavole, 5 punti percentuali in più rispetto all'uovo di cioccolato, che non mancherà nel 66% delle case. Se negli acquisti pasquali in tempo di guerra si verifica dunque una presenza per la colomba simbolo della pace, una novità, sottolinea la col diretti, è rappresentata anche dal ritorno della cucina casalinga fai-da-te, con la riscoperta dei dolci della tradizione, recuperando antiche ricette a partire da quella della tradizione contadina. In Abruzzo ci sono gli scenografici cavalli e pupe, biscotti a base di pasta frolla arricchita con un uovo sodo. In Basilicata troviamo le pannarelle, che sono delle preparazioni pasquali spesso a forma di treccia o cuore, chiuse a cerchio con un uovo al centro, per evocare l'idea di un cestino pieno di dolci per i bambini. In Calabria, spiegalo col diretti, ci sono i cuculi, tipici dolci pasquali fatti con una pasta di pane piuttosto zuccherata, aggiungendo qualche goccia di anice e di scorza di limone per dargli una caratteristica nota di sapore. In Campania non può mancare sulle tavole pasquali la pastiera e i quaresimali caratterizzati da una grande quantità di mandorle all'interno dell'impasto. Dalle mini arriva il benzone, che è tra i più antichi dolci prodotti nel territorio di Modena, dalla forma ovalizzata, con la farcitura di marmellata di prugne amarene. In Sicilia, conclude la col diretti, troviamo la cuddura cullova, che è un impasto dolce simile ad una pasta frolla, che contiene uova sode intere, impasto che viene poi decorato con zuccherini colorati, cotto in forno e a volte completato successivamente con una glassa bianca.